Al via l'operazione Waterfront, il concorso internazionale di idee lanciato dall'amministrazione comunale, il cui bando è stato pubblicato lo scorso 28 dicembre 2020 e per cui la giunta ha stanziato 100.000 euro. Il concorso si chiuderà il 14 maggio e dentro la fine dell'estate sarà giudicato il premio ai vincitori. Per lo stesso bando, ha spiegato il vice sindaco Cristian Fanesi, ci saranno due classifiche, una per ogni ambito individuato, ovvero il Waterfront Urbano, che comprende Lido e Sassonia con il coinvolgimento del centro storico e del porto, e Waterfront Torrette Ponte Sasso, con riferimento alla parte sud della città. Ai primi classificati verrà consegnata la cifra di 15.000 euro, ai secondi di 9.500 ed infine 6.500 euro ai terzi. Vorremmo che ci dessero un focus più attento a queste due zone e abbiamo pensato di destinare a chi vincerà questi due concorsi di idee per queste due aree, per questi due ambiti, anche l'incarico di progettazione in maniera tale che il Comune di Fano ha già previsto di poter finanziare questi lavori, destinando 2 milioni e mezzo di euro per questa parte più centrale, quella più urbana che si sviluppa appunto intorno al porto, e un milione e mezzo per la parte sud, diciamo Torrette Ponte Sasso, quindi sono risorsi importanti, sicuramente si riesce a fare tante opere, però ecco vorremmo inquadrarle in un contesto più ampio. Per quanto riguarda l'area urbana, ha continuato Fanesi, si punta alla valorizzazione della connessione tra lungomare, porto e centro, mentre per la parte sud del Metauro si mira a favorire il turismo e si rendono prioritari gli elementi legati alla permeabilità della costa e alla relazione tra stabilimenti balneari e le strutture dei camping. L'operazione del Waterfront, ha poi commentato il sindaco di Fano Massimo Seri, è estremamente importante ed è un pilastro di questo mandato, oltre che una grande occasione per Fano. La cosa importante poi di questo concorso sono quei concorsi di idee veri, nel senso che chi vince non prenderà soltanto il riconoscimento per aver vinto, ma realizzerà i progetti esecutivi e questa è la differenza come è avvenuta col parco urbano, quindi è uno strumento straordinariamente attuale ed è una grande opportunità. È uscito il bando per avere questi progetti di riqualificazione, con l'obiettivo di partire col primo stralcio sia a nord che a sud del Metauro e cogliere questa occasione proprio per rilanciare ancora di più la nostra città.